Il 20esimo annuale dell'aeronautica assistiamo alla cerimonia bolognese perché il 36esimo stormo aerosilurante di quittico il volo verso la battaglia di Capoteulada con la contessa baracca i generali Ranza e Fornaggiari assi della prima guerra e i figli dei vivi e dei morti dopo il discorso del comandante dell'aeroporto assistono alla consegna delle ricompense un appello come quel giorno dosi marino alla memoria maresciallo Bellesia non avara la gloria per chi come Bellesia e Centosi se però essere prodighi del proprio valore